Manco un drone si muove, Vigil, uh, Vigil, Schumacher, Schumacher supera, va sul letto Occhio spawnardelli perchè c'è la camera, raga, va su Occio, occio, chi mi guarda Occio Esci, drone, tutt Ah, raga, che figlia di pulla non so se l'ho hitato dai che tumore che è questo è sdragliato dove c'è il bridge dai stiamo perdendo contro sti bot non so No, no, no. va bene per ecoli conto la versione 100 inter un bacio raga ciao bruno come cazzi pietana quello amamino ma neanche quel di piatti per che cosa per niente io metto i nomi si prendevo prendevo l'angolo di bridge non che modi la sacca figlio è normale non scarsi in culo c'è il cancro questo vabbè uno e due, che l'altro è morto? sì l'altro chi è? dici? no vai su questo ragazzo diretto vabbè uno sponchillando, che polli che cazzo uno sponchillano, uno sponchillano sì è quello che ho detto io prima è uno sponchill che non ho mai visto però è uno sponchill che non ho mai visto però è uno sponchillare è un progetto ma sono un progetto Sì 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 Non è un attimo mirata sto andando a prendere il mitraglione io non sto a fa un cazzo dio porco mi rompo le parla io però così non vado a nessuno non vedo quando metto con lo sponchi letto tutto non c'è bagno neanche quello lì di sponchi la prima volta quello vedevo no sopra non so se provare lo sponchi regalo no ci siamo due uno per loro penso di farlo eh bello che mi fermo alex come sta me l'ha mai chiesto come stai il vero come sta come sto ucciso sa troppo c'è se togli mi cinque di vita ma che sei un bambino ti puoi per cinque di vita si si mi curo eica con stimolo però chiedro le signore frakerà figura土 che risa perché sei autorutto e if fattup fraเห ho fatto come sta, come sta, ho ucciso tra, faccio la gang, da più la gang raga non c'è nessuna altra bomba dai zitto eh vado io questo però non mi ha messo neanche gli Jager qui dai, porco dio, ma che cazzo è che erano sotto dio cane eh raga ho il defuser io e non so cosa cazzo è appena successo devo salvarvi la clip dove va questo? dove va questo? dove va questo? ma è bezza che fa, è drogato shhh no ma è bene che sta bucando voglio raga è silenzimo ma contro chi sta perdendo raga potete stare un attimo silenzio che ce l'ho chiuso io ma è bene è sotto che cazzo è tu appunto non so che giro fa voglio sentirla non so se mi spacco la botta te la sto biggando eh dio porco scale 2 sta arrivando più o meno si è riascato ciao luca è a posto? si si ma che sto vedendo raga ma che sto vedendo raga ma che sto vedendo allora a me si sono droppati in due dalla finestra in uno mi sono girato l'ho preso midfire senza laser tra l'alti headshot c'è un altro con la pistolina mi ha pushato con leee quel coso di nomad se lo vuoi fare le kill le più cane ho capito ma se mi sono amico con la kill fare touch e rinip fire senza laser senza niente perchè mi sono tornato senza mirare basta ma sto dentro la foccola eeeh l'altro come che ti si chiama è nomad e mi ha pushato con leee quella bombetta di nomad e cioè come fai? faccio vedere non posso capire chi mi più usci ma noto la bombetta di nomad non si fa di cosa? mamma mia signore signor burro signor burro signore che pro player of the world is dear gg doppio allora faccio il tumore tu almeno una kill l'hai fatto io anche quella vabbè raga meglio me piuttosto cheeeh che nico e alex che toni perchè detta sinceramente toni no ci stavo facendo carriare di maledetto eh ma toni è scarso in tutti toni per me guarda che per me toni non è platino ok ma diamante no diamanti ne conosco e non giocano come lui vai di che sta season diamanti sono tutti scarsi porco dio che siano tutti buttassare e bustare se tu cerchi se tu cerchi debrasca mi pare che si chiama si youtube e un ragazzo che conosco ha fatto tutte le season diamante ed è bravo ah anche peng ho fatto tutte le season bravo vero bravo vai di che c'è gente migliore di lui non dico che c'è scarso che non è scarso quello diamante non se lo merita no quello no ha molta gente di questa season se non se lo merita diamante DT da me in blu da me in blu ferimento e thermite eh lascialo lì eh raga non posso lasciarlo lì sono tutti da me hanno rianimato questi bussano questi bussano dai ho le scaglie di merd anche la morta con queste le palle vabbè raga però porco dio sto a fa 0-4 mi sto rompendo l'altezza il cazzo sto rompendo questi bussano e basta non barricate nel cazzo barricate dai che non c'ha vita eh buongiorno dio porco c'è tutto il cazzo dino a 0-4 non dovevi farlo ma perchè dovete cercare ma dio cane 0-4 ma che sto di dio porco nooo nooo e ma non cazzo però eh una kill perchè push no che push no non barrichiamo quel blu dio caro non parlo ma perchè pulis non parlo ma percorso ma percorso ma percorso ti li ha da ma percorso non vengono ma percorso ma percorso questi quando hanno una troia C'aveva fatto caso a Caid A questo punto puoi metterlo sulla botola e dietro Barichi tu dietro barico io Alex Barico io, vai a farle Anzi se no barica tu dito vado di farle Vado io vado io vado io Arrivo, arrivo, arrivo Vado io Vado io Vado io Vado io Vado io Vado io Eee, mi servo un caid per la fame Vado io Vado io Vado io dona ancora da membruzzo luna Da me Ragà qua ne baricato serve Hai fatto la novità non muore non muore uno di vita fallo pushare che prende il capra il 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 sono non sono sono è è è è è è è è Sì Sono da nico eh, guarda le camp Non ce ne sono, non ce ne è più uno di camp Cosa scala è uno prima Dai, vabbè ma questo qua non sa giocare Questo, questo qui non sa giocare Questa qua non sa giocare Fai proprio schifo Madonna mia, Dio porca Che cazzo giochi a fare là Io posso farmene ancora una Rega poi vado via mezz'oretta No ma perché gioco di merda Io ste map è piccola del cazzo Evitatemi Mi affastio quando faccio 1.5 porca dio Mi affastio quando faccio 1.5 porca dio Mi mette pure Luca Sì, vabbè Ci risa su altra Beh molto non è facile Io stavo facendo un piccolo furtino in inglese 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 Io stavo facendo un piccolo furtino di inglese il ragazzo che ha usato io lo so gioco con la grafica bisogna di essere quando cominci ma io non mi dico raga ma nethermite porco dio netto arcire non lo so che servono ma tu lascio stare tu pensa per te stessi che piaccia non serve un cazzo si che servono ah fa che cosa è chi? no mai no scusate te push scusate te ieri scusate te ieri ok ragazzo sto facendo tutto io con il drone però eh ma mi fanno guantato questo è proprio guarda oh tacco io ma mi ha mutato ok che è il burro non parlo proprio il burro e allora quell'altro l'etron anzi uno su scale bianche ecco 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 l'eserone è morto l'eserone è 5 di vita ma è piaciuto io che ha le bianche dove c'è la finestra il mio lampino eh l'hanno curato col doc dai porco dio che ci fa doc fuori soprattutto da quel lato là io sto fa 0-1 raga mi sto incazzando dio porco eh che caspita però o per gli operatori seri o mi o ho quitto eh dio cane da quasi guarda quel lato e non c'è nessuno vado dall'altra parte e lui mi esce intanto ma va a fare un culo va va dietro eh raga cazzeggiamo ditemelo subito che io quitto vado a giocare su fifa che almeno non cazzeggio 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 dio caro abbiamoci hash abbiamoci gli operatori di merda abbiamoci figlio hash ma non perché la uso per rimettere il mitino normale e la p***a vado a 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 mamma mia ho fatto un chilo mamma mia dio porco abbiamoci rocco figlia che cazzo c'è il papa io ho di un chilo questo mi ha fatto un cazzo altra palla se non fa kill sto rando io lo 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 c'è In mira mi sembra, infatti Vandimi un pompa che sennò mi incazzo, ti giuro, guarda Luca, riesci a fare... No, parola Occhio Hatsun Non lo so, dronaro Raga, dronate che poi entro non facciamo la botta Eh, mi fai passare Nico, mi fai passare Nico Mamma mia, raga, però di porco Ma sì, ma c'è anche bridge aperto, regalo, addio cane, ma come Tu hai sbagliato, anzi, c'è tu che bridge è la coppa E ti mette a dronare, mentre bridge Ma in realtà non ho dronato, in realtà non ho dronato, sono andato a farmi chiedere in realtà No, se vuoi che ti dico che ho dronato, ho dronato Ma aprire il mira è difficile, eh, Luca Dio porco Ma non da qua, si sa che lo vede il drone, lei Che sta arrivando Ma se sa che, allora ragiona un po' No, porco, se tu li hai detto c'è qua, lei sa che tu sei qua, normale che ti pre-fire Cambia lato Io veramente pure Grazie per loro Ma non ho messo la moneta, c'è, abbrothmi da altri Beh, ovvio, non tanto Le autocritiche, vabbè, non tanto Un po' Un po' Oddio, non tanto Quanto sta fa quel coglione, ma chi l'ha fatto, wow Ancora, due Vichio porco Non lo so Ma allora, va bene che piglia, no, come non sei capace ad usarlo, cioè se lo pigli, devi essere capace almeno, no, che prima Senti, chi parla, che bridge è stata un'altra bridge Sai come mi sono trovato, Jäger in davanti, è un bridge aperto, è che posso fare molto In davanti Lanzi, è l'italiano del dergamo Oh, guarda che sta zitto Che pollo C'è il mute Oh, voglio rompere sta cazzo di... Mamma da rompere Mamma da rompere Mamma da rompere Ecco, mamma, è un livello di cento e poi C'è un po' a A È un platino È un platino Abbiamo visto il ciondolo, che è un platino normale, che c'è un platino sono 1 io si fa 3 si ma si farà si farà brustare si fa 3 si che ho messo a trovare fuori 1, fuori 2 non c'è uno sotto su scala non c'è una neanche per il senatore si fa 3 si fa 3 4 se non c'è una cosa devo essere capire e adesso lì lì si ok vale la valida lo so ok con messo ho fatto tutte e tre bandit no fanno sempre in mera rompettolo si è riuscito ho fatto tutti l'anzi aspetta la stessa caccia l'anzi aspetta c'è capo l'anzi aspetta c'è a cambio dai porco io ho orto mamma mia voglio morire che stava un po di merda perché non la bannano è scesa l'anzi ascala è burro sinistra sinistra si ma non farti scopare così Luca però mamma mia sai che è la dai raga però farsi scopare così da uno così no va bene parca dio parca parca dio parca parca dio parca ma c'è qua? mi viene sma che vaffanculo non ci sono concerned se stanno oh sta questo INOD ah ma No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. com'è vai l'ho ancora in testa sto aprontando avvicinati avvicinati inizia a avvicinarti vai vai avvicinati eh vabbè sinistra è in bassa addestatura bravo ragazzi ma quanto sto facendo cagare mamma mia ma ragazzi fate rotation fate i buchetti ti buculla bacalla mamma mia dio porco un gioco normale è difficile ma l'anzi che cazzo ci fa in cio di gioco dio porco l'anzi che cazzo ci fa in cio di gioco papà ah si prendete la wallacean va a farloire esterna va va a farloire esterna va volete lì son va a farloire esterna 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 non so dove mettermi dove mettermi qua è il gioco a non posso voce ad entrare a bassa Pettoback Vabbè, io ho iniziato a parlare come un coglione da solo Eh, se tu che vada, se tu che vada solo, non c'è di gioco, non si Si, c'era prima anche, non è nico, forno Hanno spaccato in bomba, regà Da che lato, però Alex, mi dici se aprono Eh, hanno aperto qua, regà Ripeto, mi hanno dronato Ah Oh, non ti metto, regà Regà, e zitti un secondo Guarda, che cazzo fa le botole, porco, di quel dio Ah, l'ho ucciso? No Eh, terreno è normale Mark, il mosso è il momento Il defuser io Faccio il defuser E' in bomba Beh, regà, tanto il defuser è qui Mi ha scritto, comunque Mi ha scritto tra 83 E mi ha scritto Eh, aspetta, neanche Tra l'altro l'ho smerdato Mi fa... Figurate se non ero italiano Chissà perché ci Eh, classificano camper Che cazzo significa classificano? Vabbè, ridicolo Mi faccio, che cazzo vuoi? Se non sei capace a dronare Non è colpa mia Mi hai aperto te dietro Uno davanti Come posso fare? Nascondermi Ad drona meglio Bandit, regà Servo un bandit Ok, c'è Non parlo più Basta Vabbè, lì sono i Jager Volentà No, pio i Jager Pio i Jager Pio i Jager I want you to be happy Dai, libero Non posso C'è la parte principale Raga, chi deve stare fuori Si poi sta fuori Che io chiudo col castle Eh, spiega prima Barrico dentro No, certo, certo Barrico dentro Eh, spezza Mi vendit qua Non il castle Chi vuole uscire Esca adesso Tazza per sempre Sto a perdere io Tazza per sempre Tazza per sempre Tazza per sempre Tazza per sempre Chiudo questa grande raga Si, si Ma il gioco è sdraiato se lo fa di rabbia questo Zitti 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 adesso Ivan, stai zitto Dronano già Si Dronano in corridoio Amam Amammata Sono anche sopra Bacca è sopra Dove c'è il dormitorio Chi è che ma... Ma porco dio Vabbè, Bacca Che cazzo sei Se non si fai cazzo i suoi quel captain lì Ma niente, stanno prendendo sopra comunque Sento qualcuno in zona vecchia torre Le scale Ma raga, fate stare zitto il bimbo per piacere Ok, raga Eh raga, mi aprono dietro a me Siamo 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 Ok, ok, no fatti. Sono individuato. Ragazzi, muti, muti. Stai giusto. Muti, raga, porco Dio. Ok, sto fatti stare zitto il bimbo. E uno è in bomba, eh, raga? Qui è in bomba. Lo so. Eh. Dai, però, raga! E vaffanculo, vattene in camera che mi disturbi di stare soltanto zitto. Mamma mia. Hai sentito il luto? Dio cane. Dai. Dai. Che smirata, porco perché questo smirata di merda. Ho di fratelli che parla, mamma mia. Perché lo so scrivo, mamma mia. Oh, proprio, oggi, proprio. Zero. No. Sai che cazzo si vinta? Sì. Ma riesco a fare una mica. Buona. Ma ancora un attacca, che pall. non riesco a giocare, non con tu. Prendo io? Prendo io? Prendo io? Prendo io. Che nervi, eh. Vai quella stanza, non posso romperli. Vai su romperli, vai su romperli il cazzo con quello con lui, regalo? Sì. Questa prende solo la knock e 10, ma non è pazzo. Questa è solo down e basta. Eh, io non ho sentito IQ che mi hai lasciato in obiettivo. Oh, però, ho sbagliato io, scusate. Perché oggi c'è una mila troppe su merda, no? C'è una merda, guarda da me. C'è una merda. C'è una merda. C'è una merda. E' bella finita questo muro? Non so niente. Io posso da botnone di troppo, devo flincare. Giacomo vieni con me. Non andiamo a due da botnone. Dove hai scelto? Eh, vicino a te sono. Allora, allora. Oh, si scambia lui, mi scambio io. Raga, oltre che mi sa, mi viene a Yager, la parte dove ti muoto là, è Yager. Cos'è che ha fatto Yager? Chissà, dalle parti dove ci sono. Ah, quindi dalle nostre parti, porcadio. Bene. Non ho visto nessuno intanto dei passi. Che ce lo stai facendo, tu? Da botnone bot. Ah, passi da lì, ok. Dai, io vado da... Non vedo nessun'impronta io. Vai, troppati, 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 che ti trono io. Eh... Vai, bigliardo, bigliardo è libero. Vai. Corri, dai, corri, dai, corri. Corri, dai, corri, dai, corri. C'è da uno, biggo, andermitorio. Sei andato via. dai ma toglie tutto pure corridoio anzi bravo pittosa dittimo hai visto di pranzo da dietro lo sapevo la scena è successo la stessa cosa a me raga stop box di merda africano dai luca luca però è mamma mia raga vado su fifa e dopo di questo un po' mi sento già il cazzo che state smirate e davvero come quest'altro bomba io penso col topo dopo cioè dopo 30 colpi imprenditori server di merda raga potete pigliarvi un minuto per piacere madonna una chiama l'occhio anche ben serve anche un bandit però si coprono ovunque questi ma ho l'idea che piglia sto che non ho capito porcadio oh raga vinciamo a sta round che lo d'inchilo la prossima bambarato c'è il cazzo di piano mod ma per te lo è giusto no capcan no cap solo quelli capcan ci sta per le trappole si no ho capito questo si questo si questo si però gli altri no no perchè siamo qua raga vabbè voi raga rimpite di 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 Raga occhio che faccio il rotation qua, spostatevi No, 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 no Ma se dico di non farla, anzi, mi avevo pure fatto da Ma si, falla Ma porco dio, raga, mamma mia Chiudi con il castor, si Eh, vabbè, intanto ce l'ho toltato di vita io Dio cane Vai, vai Vai, vai Sao, vabbè, vabbè Ma, dico, vabbè, vabbè Va, saluta, vabbè Dov'è il drone? Zittima, porco dio Eh Il drone, penso Non ho fatto avete messo dei mute in bagno becca schliffa di sternopunkte abcann no liga camperate no fa' che cuore apperato è da 30 secondi ok no nono no 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 perché ho poca vita ho poca vita ho quattro dici di vita quattro dici cartone giocattici 15 adattare regala ma vi dico camperate camperate li piccate ma dio porco vi ho detto 30 vi ho detto 30 secondi camperate cosa fate usciti hai visto la tua rotation di merda che hai fatto te l'ho ucciso dalla tua stessa rotation te l'ho ucciso dalla tua stessa rotation te l'ho ucciso la colpa è sempre la mia regala ascoltate giocate da soli dai ciao ma io entro con il secondo se voglio giocare con il rainbow io bambino mi sa togliere il cazzo io prima dio porco gente che fa 1,6 dio cane quello che usa solo il porco di di quello usa come ti rappi i coglioni dopo un po' argento dio cane quanto di argento perdiamo grazie per la tua no 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 No, la foto soffia, non c'è nessuno che gioca, io porco. No, la foto soffia.